Ragazzi volete vincere skin o altri oggetti? Dallo shop di Fortnite tutto gratuitamente da parte mia Basta seguire tutti questi semplici passaggi che vi metto qui alla mia destra Iscriviti e attiva la campanellina o commenta con il tuo ID su Fortnite qua sotto nei commenti In modo che poi potrò estrarre alcuni di voi che avranno fatto i passaggi Lascia like e condividi il video con tutti i tuoi amici Guarda tutto il video e infine seguimi su Instagram cecchinato-tv E a raggiungimento ragazzi di 200 like sotto questo video dai commenti Valla appunto estrarò delle persone che avranno eseguito tutti questi passaggi E infine gli regalerò un oggetto su Fortnite Detto questo non c'entra assolutamente niente con i regali Quindi non è un passaggio obbligatorio a fare Però qualora voleste potete supportarmi nello shop con il mio codice cecchinato-nato Detto questo vi lascio al video Buona continuazione Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Io sono cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video di Fortnite News Prima di incominciare con il video vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale con la campanellina Se non lo avete ancora fatto Lasciate un bel like e condividete questo video con i vostri amici E se ancora non l'avete fatto seguitemi anche su Instagram cecchinato-tv Detto questo ragazzi oggi abbiamo veramente un video molto molto interessante Infatti andremo a vedere tantissime novità per quello che riguardano i 14 giorni di Fortnite Quindi confermate arriveranno nuovi regali Insomma andremo a vedere anche un trailer E poi ragazzi ovviamente nuovissimi leaks inerenti alla stagione 5 Iniziamo ragazzi subito da questo primo leak e parliamo del torneo che è già stato svolto Oppure si sta svolgendo in questi minuti E mi raccomando partecipate ragazzi perché almeno potrete ottenere in maniera gratuita La copertura a misculli di Natale una roba del genere si chiama Comunque una wrap veramente molto carina perché sarà tipo un miscullio tra scheletro e Natale Quindi veramente carina sarà E ragazzi la potrete ottenere comunque dopo l'aggiornamento 15.10 Quindi una volta che avete fatto il torneo ovviamente non potrete subito ottenerla Perché non è ancora all'interno dei file di gioco La otterrete come potete vedere esattamente il giorno della patch Quindi dopo che i server saranno stati in manutenzione Saranno quindi on Potrete subito ottenere la vostra ricompensa Che vi ricordo si sblocca facendo 5 punti in questo torneo Che vedete proprio qui alla destra La modalità del torneo comunque è in trio e se non avete partecipato ragazzi oggi non credo che potete insomma rifarla Però comunque vedremo nei prossimi giorni e magari se c'è un'altra giornata prima della patch Magari si può ancora ottenere però non lo so ancora Quindi se avete partecipato oggi avete fatto bene perché non si sa se potrete ottenerla anche se fate i tornei successivi Bisogna un attimo vedere questa cosa La copertura armi ragazzi comunque farà parte del set del teschio versione natale Intanto vedete anche alla destra quella femminile che è solamente un concept Ma fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate Vi piacerebbe vederla nello shop E comunque sarà similissima comunque a livello di colori A quella ovviamente della skin maschile del teschio di natale Farà ovviamente parte del suo set quindi mi raccomando vi ricordo partecipate E ora ragazzi parliamo del Winterfest ragazzi Ci stiamo sempre più avvicinando a natale Ovviamente non si può non parlare dei 14 giorni di Fortnite che ci regalano ogni anno Infatti avremo ragazzi come avevo già detto nei scorsi video Una casa simile del Crackshot dove potremmo ogni giorno ottenere delle ricompense gratuite Come l'anno scorso ovviamente le ricompense sono cambiate Non si sanno ancora attualmente quali sono Quindi dovremmo aspettare la prossima patch 15.10 Che arriverà martedì barra mercoledì per saperne di più Però insomma già qualche cosa è stata scoperta Come ad esempio un trailer E inoltre ragazzi come ben sappiamo Una ricompensa è già stata più o meno spoilerata Ma non è sicura al 100% che è quella per l'appunto Che vedete qua alla mia destra Niente di che ma insomma è sempre gratis Quindi in teoria dovrebbe fare parte dei regali per l'appunto E intanto ragazzi vi voglio far vedere questo piccolo trailer scoperto In anteprima e poi lo commentiamo insieme Questo ragazzi era il trailer ufficiale che stanno inviando via email ad alcuni creatori E come possiamo vedere ragazzi si vedono più o meno 4 cose veramente molto molto interessanti La prima ragazzi è un ritorno del lanciapalle di neve Vabbè questo in realtà ogni anno comunque lo fanno Quindi ritornerà anche questo sicuramente E ragazzi la seconda cosa è il ritorno degli aerei Infatti non si può non notare quell'aereo lì che vola nel cielo E ragazzi vi dico già da subito che è confermato più o meno al 99% Che ritorneranno gli aerei Non solo diciamo in mappa ecco Quindi nelle normali partite Ma anche ragazzi probabilmente con la vecchia modalità Ve la ricordate che era uscita se non sbaglio una stagione 7 Che per l'appunto spawniamo sopra l'aereo E dobbiamo distruggere gli altri avversari E insomma veramente molto molto carina come modalità E potremmo per l'appunto rivederla proprio con la prossima patch Con tutto ovviamente le novità La terza cosa invece ragazzi è una dinamite Non so se ci avete fatto caso Ma durante il trailer si vede una dinamite lanciata Quindi probabile ritorno anche di questo tipo di granata E ragazzi ultima una nuova skin Che vi zoomo ora proprio E come possiamo vedere è una specie di caramella natalizia Quindi potremmo vederla nel negozio oggetti Oh ragazzi io credo anche che magari Non lo so potrebbe essere una skin che ci diano nei 14 giorni Perché ne abbiamo scoperta una Ma la seconda ci manca ancora Perché se vi ricordate ce ne erano ben due l'anno scorso Quindi magari anche quest'anno altre due skin gratis Quindi quella che ve ne avevo già parlato di prima Quella specie di pupazzo di neve E magari anche questa caramella Chiamiamola così Potrebbe essere data in maniera gratis Ovviamente ho una mia teoria Niente di ufficiale Però se così non fosse Sarà comunque rilasciata probabilmente nel negozio oggetti Il costo ovviamente non si sa ancora E tra l'altro ragazzi non dimentichiamoci Che ovviamente con l'arrivo del Winterfest Rivedremo il bus della battaglia a cambiare Quindi diventerà insomma tema natalizio E ovviamente ragazzi Non dimentichiamoci che potrebbe arrivare Anche un piccolo luogo dedicato per l'appunto Al Natale ragazzi E un'altra cosa è anche ovviamente La neve che probabilmente arriverà all'interno della mappa Sarà totalmente innevata Per quanto riguarda il giorno di Natale O il giorno prima Adesso non mi ricordo precisamente Quando si inneva tutta E poi ragazzi ovviamente ci sarà Una parte credo innevata Proprio in occasione delle vacanze natalizie E parlando di nuove location ragazzi Nei file sono stati trovati Per l'appunto dei file inerenti a un nuovo bioma Diciamo tema ghiaccio Quindi confermato quasi diciamo Una probabile piccola città Magari a tema ghiaccio Non lo so E comunque stanno anche lavorando Per migliorare il ghiaccio E l'elettricità Quindi insomma Buone novità E vedremo insomma Come sarà questa nuova location Per oggi comunque ragazzi è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un bel like E noi ci vediamo domani sicuramente Con un nuovissimo video Su Fortnite News Bella Ciao